eccomi luca sguazzini italo portoghese nato 3 ottobre 88 27 anni piena di energia piena di vita garantito perché ho già mi sono informato di te allora parla quattro lingue fai modello multi mestiere da cowboy fino al contadino piace sport estremi piace viaggiare in libertà e sopravvive con le condizioni estremi allora adesso sei sotto mili carlucci parlando con le stelle più estreme di questo non lo troverai dire per il mondo perché deve imparare tanti quei balli durante dieci settimane io auguro che riesci a sopravvivere allora fisicamente sicuramente riesci a farlo e vediamo che hai il ritmo dentro di te però hai una insegnante vera chinuna della svezia che è ottimissima deve ascoltarla in qualsiasi cosa che dice fida di di lei perché in pratica ti guida in modo giusto ok poi sono molto curioso a capire dove mette tutti i capelli che non è tanto un problema ma la barba ciao